Francesca Chillemi è pronta a ricoprire di nuovo il ruolo di Azzurra in Che Dio Ci Aiuti, che andrà in onda con l'ottava stagione. L'attrice è infatti impegnata proprio a girare le nuove puntate di questa serie Rai, in cui il suo personaggio è uno dei più amati assieme a quello di Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci. La Chillemi è reduce da un altro successo clamoroso, la seconda stagione di Viola come il mare, in cui è coprotagonista assieme all'attore turco Khan Yaman. Insomma, la carriera dell'ex Miss Italia è davvero radiosa e sembrerebbero non esserci intoppi alla sua ascesa se non fosse che l'attrice non riesce a perdonare un gesto avuto proprio dal suo collega Yaman. Gelo tra Francesca Chillemi e Khan Yaman, ecco perché. Francesca Chillemi è pronta a tornare sul piccolo schermo in autunno, nei panni di azzurra in Che Dio Ci Aiuti Otto. Tante le novità sulla serie. Innanzitutto non sarà più ambientata nel convento di Assisi, ma in una casa di accoglienza per ragazze di Roma. Saltuaria anche la presenza di Elena Sofia Ricci, che darà manforte all'Achillemi, che però sarà la protagonista assoluta della serie. Nonostante la carriera proceda alla grande per Francesca, in realtà l'attrice non ha affatto digerito un gesto imperdonabile del suo collega Khan Yaman. Stando ad un articolo pubblicato su Nuovo TV, per molti mesi si sono rincorse le voci di un possibile flirt fra le due star. In realtà Yaman è single mentre la Chillemi è fidanzata da dieci anni con l'imprenditore Stefano Rosso, da cui ha avuto anche una figlia, Rania. Nessuno dei due interessati si era espresso a riguardo fino a qualche giorno fa, quando a Francesca è stato chiesto, Yaman ha dichiarato che se trovasse una persona bella e giusta come te, penserebbe a costruire una famiglia, come lo hai stregato. La risposta dell'attrice è stata, non sono io ad averlo stregato, ma viola, riferendosi proprio al personaggio che interpreta nella serie. A quel punto si è inserito Khan Yaman che ha subito risposto «Non è vero, non sono stato stregato da nessuna delle due, anzi, forse il contrario». Così il pubblico è subito giunto alla conclusione che fra i due sia finita male, perché la risposta così impulsiva di Yaman, che è sempre molto riservato sulla sua vita privata, non ha lasciato dubbi. I fan hanno ritenuto poco elegante questa uscita di Khan Yaman e con molta probabilità anche la Cillemi potrebbe essersela presa. D'altronde i due, dopo la prima stagione, avevano sempre parlato di un bel rapporto di amicizia che si era creato sul set. Ora invece sembra esserci solo il gelo fra i due attori.